Perla Vatiero e Mirko Brunetti, la separazione è solo una farsa. Perla Vatiero e Mirko Brunetti, nuove speranze per la coppia? Solo pochi giorni fa, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno scioccato i loro fan con l'annuncio della loro separazione, creando un'ondata di preoccupazione tra i loro seguaci più affezionati. Da allora, le speculazioni e le voci su di loro non si sono fermate. Secondo quanto rivelato dalla gossipara di Yanira Marzano, sembra che il loro addio potrebbe non essere definitivo. Nonostante i comunicati ufficiali che dichiaravano la rottura, pare che i due ex fidanzati non abbiano completamente interrotto i contatti. P e M si stanno sicuramente risentendo, per ora non è un rapporto chiuso, aveva scritto la Marzano nei giorni scorsi. Poco fa, una nuova storia su Instagram della Marzano ha riacceso le speranze dei fan che sognano un possibile ritorno di fiamma tra Perla e Mirko. La gossipara ha lanciato una misteriosa indiscrezione. Da fonti sicure vi confermo che una coppia si è rivista stanotte e ha trascorso la notte insieme. Maggiori dettagli sul chiarimento arriveranno più tardi. Non è chiaro se con il termine coppia Marzano intendesse i due ex fidanzati o un'altra coppia. Tuttavia, come Perla aveva accennato recentemente, questo periodo è stato particolarmente difficile per entrambi, il che potrebbe spiegare perché, nonostante la rottura, uno o entrambi stiano trovando difficile distaccarsi completamente da una relazione così significativa. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi per scoprire se questa nuova informazione confermerà le speranze di una riappacificazione tra Perla e Mirko.